Siamo arrivati a profilassare 260 persone. Ci sono due farmaci che sono indicati come prima scelta da antibiotico da dare, da offrire alle persone che sono appunto contatti stretti. La definizione di contatto stretto però risponde a dei criteri. Sono quelli della classe, i compagni di classe, sono i familiari, sono quelli degli eventuali ambiti ricreativi ma con contatti ravvicinati molto prolungati come per esempio una partita di basket nel caso specifico con le due società interessate. Lo abbiamo allargato anche a due occasioni di feste, di ritrovi conviviali fatti nell'ultima settimana dal contagio.